La Calabria per esempio che rivendica, urla di aver fame di infrastrutture partendo dal porto di Gioia Tauro, è un porto che ci ha regalato il Dio con i fondali più profondi in Europa, è un porto che non funziona perché una volta scaricate le merci qui non c'è intermodalità, non c'è la cura del ferro non ci sono infrastrutture e così pur essendo nel mezzo della tratta dal canale di Suez all'Europa le navi che arrivano dal Mediterraneo vanno su fino ai porti europei che non hanno i fondali che ha il porto di Gioia Tauro e lì però c'è la cura del ferro e le merci arrivano rendere più ricca infrastrutturalmente la Calabria per esempio col porto di Gioia Tauro significa rendere più ricca l'Italia intera